Martedì prossimo nella cabina di coordinamento guidata dal commissario Guido Castelli approveremo il piano speciale per la ricostruzione di Cortino. Sono più di 12 milioni investiti per importanti opere pubbliche, oltre a quelle che erano già state approvate e licenziate. Anche a Rocca Santa Maria, come a Cortino, la ricostruzione sia pubblica che privata procede a buon ritmo. La buona parte delle domande presentate sono state istruite dai nostri uffici. Quelle che ancora restano da istruire hanno dei tempi tecnici di scadenze prossime entro la fine dell'anno. Diciamo che il 2024 è l'anno in cui noi prevediamo di poter concludere definitivamente tutte le istruttorie sulla ricostruzione e tutti quelli che avranno diritto potranno aprire i cantieri, quelli che almeno non lo hanno ancora fatto. È una ricostruzione difficile perché la montagna Teramana sul versante dei Monti della Laga è una montagna caratterizzata da una forte frammentazione dell'abitato, comuni con poche centinaia di abitanti divisi a loro volta in decine e dozzine di frazioni. Questo rende davvero tutto molto più difficile e complicato nel tenere la coesione, nel collocare i servizi, nel cercare di essere di supporto a delle comunità così piccole che hanno un territorio molto molto vasto ma nello stesso tempo un territorio preziosissimo. Tutelare e rafforzare la presenza umana in questi territori significa preservare le nostre foreste, i nostri boschi, i pascoli di qualità. Abbiamo visitato allevamenti molto importanti con prodotti di altissimo livello e quindi questo è il lavoro che stiamo facendo e il sopralluogo di oggi anche per prendere visione degli edifici che devono essere demoliti e ricostruiti, degli interventi anche in funzione della ripresa turistica del territorio, un territorio che peraltro in passato turisticamente aveva poco o nulla, non ha praticamente alberghi, quasi inesistenti le camere, quindi ho apprezzato che i sindaci stanno cercando di investire anche su questo segmento con impianti sportivi a supporto, anche qui l'investimento sul turismo sportivo rappresenta il futuro e la regione Abruzzo sosterrà questo sforzo. Grazie.